Siamo riusciti a sconfiggere Metal Thor, ma vediamo se ora Thor tornerà fra noi oppure no. È da parecchio tempo che non lo stiamo vedendo. Non era più con noi Thor. Si toglie il mantello Ultron Sigma. Che vuole farci ora? Annientarci tutti? Ma non è ancora tornato fra noi Thor. Ti prego Thor, torna fra noi.